In questa lezione, prima di iniziare a vedere insieme una possibile soluzione della simulazione dell'esame della settimana scorsa, vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, di seguire queste istruzioni che sono necessarie per poter accedere a GitHub da Eclipse, perché GitHub non accetterà più l'autenticazione con username e password normali per ragioni di sicurezza a partire da agosto, come probabilmente tutti voi avrete già ricevuto le varie mail eliminatorie e questa è la soluzione al problema, essenzialmente, vi costringe a fare qualche piccolo passaggio per creare il cosiddetto token di accesso personale che sostituirà la password, è un codice, diciamo così, criptograficamente lungo e più sicuro della singola password e poi dovrete usare questo token per accedere in Eclipse. Allora, questo è un problema sicuramente da agosto in avanti, perché intorno ad agosto praticamente GitHub disabiliterà completamente la possibilità di accedere con le password, quindi sicuramente sarà un problema per chi farà l'esame nel settembre, ma è un problema anche per chi fa l'esame il 30 giugno, perché GitHub ha deciso di definire delle date di cosiddetto brown out, che è una sorta di black out, ma marrone, non nero, e quindi un black out parziale, lui dice perché vi abituiate alla nuova modalità di accesso abbiamo scelto due giorni, uno nel mese di giugno e l'altro nel mese di luglio, in cui le password non funzioneranno e noi ovviamente abbiamo il giorno dell'esame esattamente in uno di quei due giorni di prova, per cui chi darà l'esame il 30 giugno o ha fatto questa procedura prima oppure non riuscirà di fatto a scaricare il progetto d'esame in Eclipse, quindi non riuscirà a sostenere l'esame, ok? Quindi ve l'ho già scritto su Telegram, vi arrivano le mail da GitHub Minatori, vi ho messo l'avviso, ditelo anche tra di voi, perché effettivamente non vorrei che qualcuno, ogni tanto c'è sempre qualcuno un po' distratto, che arriva all'esame e dice ma scusi non funziona niente, dopo che l'abbiamo forse detto per settimane di fila, ok? Quindi ricordate, fatelo, fare ai vostri amici, eccetera, eccetera. E sul fatelo fare l'altra raccomandazione che vi faccio anche è quella della compilazione del questionnaire del CPD, perché per noi come vi ho già condivido è particolarmente importante, tra l'altro se non sbaglio da quest'anno ci sarà anche una sperimentazione in più, quindi un questionario aggiuntivo post esame, in cui avrete la possibilità, normalmente il questionario lo dovete fare prima della fine dei corsi, no? E quindi non potete di fatto valutare come si svolge l'esame. Il CPD sta sperimentando un nuovo questionario, ma molto breve, cioè 4-5 domande e risposta chiusa, una cosa che si compila in 20 secondi e sta valutando post esame. Dopo che avete registrato l'esame, nelle due settimane successive vi arriverebbe questo questionario. Io ritengo che sia un tema abbastanza interessante perché molte volte il giudizio sull'esame può cambiare in meglio o in peggio dopo che avete fatto l'esame. Però per poter, e quindi questo anno accademico, questo questionario post esame verrà erogato in modo sperimentale solamente su alcuni corsi e io avevo dato la disponibilità, quindi penso che sia stato inserito questo, e se la sperimentazione funziona bene e quindi essenzialmente se i tassi di compilazione sono alti e se, fatemi dire, la maturità di compilazione è buona, cioè date delle risposte sensate, allora verrà esteso a tutti i corsi del Politecnico. Sappiamo che ci sono alcuni che hanno più bisogno di altri, diciamo così, di avere un check up alle modalità d'esame, non dico altro. E quindi il vincolo è però che se non avete compilato il questionario CP di iniziale, allora non vi arriverà neanche il questionario post esame, chiedetemi perché. E quindi è un motivo in più, per dedicare veramente questi 5 minuti in un anno a fornire questo feedback che effettivamente viene abbastanza valutato, sia dai docenti che dai coordinatori. Va bene, finisco la fine della sezione prediche e veniamo noi, veniamo noi all'esercizio che è la simulazione del primo giugno. Io ho già caricato in Eclipse il progetto e lavorerò come la volta scorsa nel branch che si chiama soluzione, quindi vi troverete il progetto base nel branch master e il lavoro che facciamo adesso insieme nel branch soluzione. Ricordiamo, senza rileggerlo tutto, perché ci avete dedicato tutta la settimana scorsa, il testo di questa simulazione d'esame che aveva a che fare con geni e correlazione tra questi geni, quindi il database estratto dalla genetica essenzialmente. Ok? Allora, potrei partire, fatemi aprire anche ID, SQL, così se dobbiamo dare un'occhiata alle query lo possiamo fare. Ecco qua. E questo è il nostro database genesmall, eccolo qua, che è fatto di questa tabella dei geni, con l'elenco di tutti i geni, alcuni essenziali, alcuni no, questi geni sono collocati in qualcuno dei nostri cromosomi, questi geni possono interagire tra di loro, per cui abbiamo una tabella delle interazioni tra gene e gene che ci dice che questi geni si interagiscono e se sì con quale forza, con quale correlazione, diciamo così è forte questa interazione. La tabella classification in questo tema d'esame non ci servirà. Ok. Partiamo quindi dall'inizio e all'inizio ci chiede che il punto 1A alla pressione del bottone crea grafo si crea un grafo semplice, pesato, non orientato, i cuvertici siano tutti i geni essenziali, quindi li scoprono dalla tabella genes andando a filtrare per il campo essential. Quindi il campo essential non è un campo booleano essenziale sì, essenziale no, ma è un campo di testo in cui ci può essere scritto essential, non essential, oppure un bellissimo punto interrogativo, ma in questo caso noi filtriamo solamente i campi, i geni che hanno la string essential all'interno del campo essential. Allora per far questo possiamo partire dal DAO e vediamo che già ci troviamo pronto nel nostro DAO e nel DAO abbiamo già un metodo set all genes che mi restituisce tutti, io proporrei di modificare questo metodo anziché get all genes e lo chiamerei get all essential genes e restituiamo solamente quelli essenziali, quindi faccio un'operazione di copia e incolla di questo metodo e lo chiamo get all essential genes dove la query la modifico leggermente estraendo solamente quelli cui campo essential vale appunto al string essential, quindi proprio per sicurezza questa era la query completa, la modifichiamo where essential uguale apc essential e a questo punto saltano fuori solo più questi geni, sono 286 per facilità, visto che poi li devo schiaffare in una tendina, li metto in ordine crescente di gene, così diventa più facile trovare il gene che mi serve all'interno della tendina perché altrimenti me li trovo tutti sparsi, sono ordinati per cromosome o che crociano ma diventa più difficile trovarli quando faccio gli esperimenti. Allora questa è la mia query modificata, la vado a riportare qui e il resto diventa praticamente identico, nel senso che comunque questa query mi dà degli oggetti di tipo genes che contengono questi tre campi gene id, essential e chromosome sapendo che essential in realtà sarà sempre uguale alla string essential. Fatto questo posso cominciare a lavorare all'interno del modello creandomi l'elenco di tutti i geni essenziali, direi che l'elenco di tutti i geni, tutti tutti non mi servirà mai, in questo esercizio. Quindi, creiamo una variabile privata lista di genes, quindi list come java.util.list genes, lo chiamiamo essential genes e questa sarà la lista in cui andiamo a memorizzare quelli che poi diventeranno i vertici del grafo. Diciamo che tutto questo, tutte queste operazioni che stiamo facendo, qui siamo partiti dal punto A, ma il punto A è legato alla pressione del tasto crea grafo. Quindi possiamo mettere la lettura di questi vertici all'interno di un metodo del model che servirà per creare il grafo. Quindi un metodo public, crea grafo, void, crea grafo, che come prima cosa quindi si andrà a leggere l'elenco di geni essenziali. Quindi si va a istanziare il DAO, genes DAO, DAO uguale new genes DAO, e a questo punto semplicemente carica gli essential genes da DAO.getEssentialGenes, il metodo che abbiamo appena fatto. Quindi in questo modo abbiamo estratto quelli che saranno i vertici del nostro grafo. Ovviamente questi però sono solamente i vertici, dobbiamo creare il grafo vero e proprio. E aggiungeremo questi come vertici del grafo stesso. Allora come era fatto il grafo? Andiamo a riguardare il testo, il testo ci diceva che il grafo deve essere semplice, pesato e non orientato. Quindi se non ci ricordiamo più possiamo andare a ricontrollare la documentazione di JeffGraphT, tanto per ricordarci dove erano. Nella user guide c'era questa bellissima tabella. Noi vogliamo un grafo semplice, abbiamo detto non orientato ma pesato. Quindi self loop vuol dire no, gli archi saranno non orientati, quindi questa prima metà, multi pages no, pesato sì. Quindi underwritten no, no sì, ce l'abbiamo qua, questa riga qua. Simple weighted graph, questo è il grafo che serve a noi. Quindi tornando in Eclipse, definiamo il grafo, private graph, prendendo da JeffGraphT, che avrà come vertici dei geni, oggetto jeans, e come arco, un arco pesato, quindi default, default weighted edge, lo chiamiamolo grafo, e quindi nel mio metodo crea grafo, andrò a creare this.grapho uguale new, l'abbiamo chiamato simple weighted graph, l'abbiamo trovato qua nella documentazione, che riceve come parametro la classe dell'arco, quindi default weighted edge, punto class. Amore, il sole splende sul lago di Como, ci vogliamo svegliare? Lasciamo il risveglio del nostro amico al lago, e noi andiamo avanti sull'esercizio. Allora, simple weighted graph, qui devo fare l'import, ok, e a questo grafo aggiungiamo i vertici, quindi graphs, prendiamo il metodo di utilità, che ormai conosciamo, add all vertices, al grafo, e come arco, scusate, come elenco di archi, la collection sarà esattamente quella di Essential Genes. Ok, ma fin qua è facile, stiamo costruendo i vertici, potremmo già chiudere la prima versione del programma e testarla, per non scrivere troppo codice prima di testarlo, quindi potremmo andare nel controller e attivare il tastino crea grafo, che per ora creerà un grafo solamente con i vertici e senza archi, vale la pena di farlo, così poi dopo ci concentriamo sul resto. Allora, una cosa utile che potevamo fare è restituire una stringa, così il controller può stampare un messaggio, che noi costruiamo qui dentro, return, string.format, grafo creato, con percento di vertici, e percento di archi, a capo, e i vertici saranno this.grapho.vertexset.size, e gli archi saranno this.grapho.edgeset.size, questa è già scritta un certo numero di volte, questa istruzione, avendo questo possiamo incorporare, quindi siamo saliti dal DAO al modello, saliamo al controller, ci mettiamo dentro il metodo do crea grafo, e a questo punto semplicemente chiamiamo, ci facciamo calcolare la lista di geni, no, non ci serve ancora la lista di geni in realtà, quindi per ora chiamiamo solamente messaggio come model.creagrafo, e visualizziamo questo messaggio, text.result append message, ok, così proviamo il programma per la prima volta, quindi questo chiamo semplicemente il crea grafo, che il crea grafo leggerà i vertici essenziali, e li aggiunge il grafo stesso, facciamo un run della classe main, allora, questa è la nostra applicazione, crea grafo, non ci sono errori in console, e mi dice che il grafo creato con 286 vertici e 0 archi, ecco, 286 coincide ovviamente con il numero di righe della nostra query, quindi sembra che per ora, ok, questa parte facile funzioni, e quindi possiamo andare avanti, qui abbiamo di fatto risolto il punto A, i vertici, e ci mettiamo a lavorare sul punto B, allora, avendo risolto il punto A, il mio istinto mi dice, avendolo testato, visto che funziona, il mio istinto mi dice ecco, dice lo salviamo lì a scanso di eventuali errori successivi, ok, pass punto invece 1B, dobbiamo aggiungere gli archi, un arco collega due geni diversi, solo se tale coppia appare nella tabella interactions, signorino archi di tipo cappio, cioè la connessione di un gene con se stesso, quindi praticamente io dovrò prendere la tabella interactions, che è questa, e aggiungere un arco, no, tra ogni coppia di gene, tra quelli essenziali chiaramente, che compaiono in questa tabella, ad esclusione del self loop, e poi cosa devo fare di questo arco, mi dice che questo arco dovrà essere pesato, con un valore che deriva dal valore assoluto della correlazione, quindi il campo correlation qua, della tabella, eventualmente raddoppiato, moltiplicato per 2, pari al doppio, se i due geni appartengono allo stesso cromosoma. Allora, il fatto che i due geni appartengono allo stesso cromosoma me lo dice, non me lo dice la tabella interaction, chiaramente me lo dice la tabella jinx, dove vado a vedere, per ciascuno dei due cromosomi, qual è, per ciascuno dei due geni, perdono, qual è il cromosoma a cui appartengono. Ok, io adesso quindi devo estrarre una query che mi dia per lo meno per ogni coppia di jinx id il valore della sua correlazione, quindi potrei fare una query di questa tabella interactions e adesso a questo punto ho due possibilità, ho due scelte, la prima possibilità è di fare la query che mi restituisca solo ed esclusivamente i geni essenziali e quindi faccio una join con la tabella jinx per estrarre solamente i geni che a loro volta sono essenziali e così saranno già esattamente gli archi del grafo che mi interessano oppure seconda possibilità estrago tutti i geni e poi nel codice java nel caso in cui non siano geni essenziali li ignoro per sapere se sono geni essenziali oppure no io ho già la lista dei geni essenziali quindi faccio abbastanza in fretta perché è un'informazione che ho già in questo caso mi viene più forse naturale questa seconda via nel senso che facciamo una query semplificata prendiamo tutte tutte le interazioni e poi le filtriamo nel codice java tanto per provarne una di solito erano abituati a cercare di fare il più possibile nella query ma chiaramente sono le due strade entrambe possibili quindi in questo caso vediamo se nel modello ho già un oggetto interactions non ce l'ho e quindi mi creo un oggetto nuova classe che chiamo interactions così come la colonna il nome della colonna del database e in questa classe interactions metterò allora private string come si chiamano questi campi della colonna si chiamano jing id 1 e jing id 2 jing id 1 string jing id 2 poi avrò il campo type che è anche l'una stringa e poi avrò il campo correlation expression core private che è un double lo scrivo così alla java non con l'underline per convenzione ecco su questa classe noi abbiamo due scelte quindi ricordiamoci quello che avevamo studiato quando abbiamo visto lo rm abbiamo due scelte qui abbiamo due attributi ok che sono delle chiavi esterne essenzialmente cioè questo jing id da solo non dice nulla semplicemente è il codice della chiave primaria del gene vero e proprio e noi quindi quando andremo poi a creare il grafo avremo bisogno dell'informazione sull'oggetto gene che è il vertice del grafo non solamente della sua stringa ok quindi dovremo a un certo punto di sicuro passare dal jing id che è ciò che mi dà diciamo così l'interaction all'oggetto gene quindi gene id che è una stringa devo passare all'oggetto gene che corrisponde a quella stringa questo già mi fa capire che dovrò inventarmi dovrò costruirmi un identity map un identity map dei geni dei geni essenziali in modo da poter passare velocemente dalla stringa all'oggetto allora a questo punto mi chiedo è più comodo ovviamente la risposta dipende o le risposte sono entrambe è più comodo per me avere un oggetto interaction che contenga dentro una stringa jing id oppure sarebbe già più comodo avere un oggetto che contenga un gene gene 1 e non l'id cioè a un certo punto dovrò passare dalla stringa del jing id all'oggetto gene posso decidere se questo passaggio io lo faccio direttamente nel dao per capirci quando leggo i dati oppure mi tengo la stringa e poi ogni volta che mi servirà il gene dovrò andare a fare il lookup nella identity map probabilmente mi conviene la seconda via perché così ho i oggetti gene e poi dall'oggetto gene a passare all'id basta che io faccia un get dall'id a passare al gene invece è sempre più complicato perché devo portarmi dietro ogni volta l'oggetto id map per fare la conversione inversa ok quindi in questo caso io preferirei e vado a modificare questo codice memorizzare nell'oggetto interaction non le stringhe ma direttamente già gli oggetti se riusciamo chiamiamo gene 1 e gene 2 che in questo caso sono più comodi da usare successivamente perché questi in realtà sono già oggetti vertici del grafo sono già i vertici del grafo quindi mi risparmia poi un passaggio quando dovrò creare gli archi come sempre l'operazione va fatta di passaggio della stringa all'oggetto scelgo solo quando farla come mi è più comodo farla ok su questa classe non c'è molto altro da dire quindi la completiamo sui metodi source mettiamo il costruttore e mettiamo i soliti getter setter per tutti le variabili ok allora una volta che abbiamo questa classe possiamo creare un metodo del DAO che popoli questa classe facendo una query su database ricordandoci che ovviamente poiché questa classe deve contenere oggetti abbiamo deciso che contenga oggetti tipo gene avremo bisogno di dell'entity map per poter risalire quindi nel modello possiamo già direttamente prepararci l'id map per i geni essenziali in modo da averli diciamo così sotto mano quindi abbiamo private map string gene essential genes id map e questa mappa la vado a inizializzare chiaramente nel momento in cui ho letto i geni essenziali dentro la mia crea grafo quindi dentro la crea grafo io avevo costruito letto i geni essenziali e subito posso creare a questo punto la id map corrispondente new hash map e la popolo semplicemente con un ciclo per ogni gene g che sia nei geni essenziali che ho appena letto dal database questo hash map ha bisogno ancora dell'import e allora semplicemente metterlo nella mappa il link tra l'id quindi g.getgenid che è una stringa e l'oggetto gene stesso punto put ho dimenticato un pezzo siamo qui qua siamo d'accordo allora quest'identity map mi serve per fare l'acquire nel database in modo da ottenere solo le interactions corrispondenti ai geni essenziali avendo già riferimento all'oggetto gene essenziale di prima di cui parlavamo prima quindi qua potremmo avere una nel DAO qui vado nel DAO ok una lista di interactions interactions la chiamiamolo get interactions e questa lista si prende in carico come parametro anche l'identity map dei geni calcolati prima perché mi serve per costruire gli oggetti tipo interactions quindi prendo una mappa string gene e la chiamo idmap anzi chiamiamolo genes idmap allora che cosa devo fare qua beh dovrò fare semplicemente la query che mi dà tutte le interazioni string sql uguale select asterisco from interactions e poi mi faccio solita trafila di istruzioni del jdbc quindi connection db connect punto get connection e poi il mio bel try in cui vado a verificare eventuali sql exception e in tal caso comunicarle one time exception database error poi x che è uno dei tanti modi di riportare queste sql exception va importato no ok e adesso abbiamo le istruzioni vera e propria e quindi creiamo il prepare statement dalla connessione con questa string sql eseguiamo non abbiamo parametri da settare perché non ci sono punti derogativi in questa query abbiamo result set result set res uguale statement punto execute query e poi normalmente appunto creiamo la lista quindi creiamo la lista di interactions chiamiamola result per pigrizia new array list e dentro questo ciclo chiaramente while result punto next andiamo a creare questi oggetti interactions ok è bravo aperta graffa quindi qui devo creare gli oggetti interactions per trovare gli oggetti interactions chiaramente devo andare a passare dalla stringa geneid all'oggetto gene stesso quindi posso avere un oggetto genes gene1 e genes gene1 come prendendo la stringa che è result set punto get string di gene id1 quindi sto prendendo vediamo il database questa stringa qua gene id1 e la vado a usare come chiave della mappa quindi genes idmap punto get di questa stringa così ok quindi dalla query estraggo la stringa col geneid e dall'identity map trovo l'oggetto corrispondente a questo gene e la stessa cosa lo faccio col 2 trovo il gene 1 e il gene 2 a questo punto ho tutte le informazioni che mi servono per poter creare l'oggetto interactions ma anche per poter capire se questo oggetto interactions mi serve o no perché ricordiamoci che io ho fatto una select con tutte le interazioni ma a me interessano solamente le interazioni tra i geni essenziali che erano quelli presenti nel grafo e quindi vorrà dire che questa get sulla mappa a volte andrà a buon fine a volte no nel senso che a volte trova effettivamente questo gene perché era tra quelli essenziali che ho letto prima a volte non lo troverà e quindi la get quando non trova nulla non dà nessuna eccezione ma restituisce un null quindi questo è anche il trucco che mi può servire per dire io so devo aggiungere diciamo così un interaction quindi aggiungerò poi un arco se e solo se gene1 e gene2 sono entrambi diversi da null e sono diversi tra di loro anche perché abbiamo il vinco di non valer aggiungere dei loop ammesso che saltino fuori dalla query che ci sia nel database quindi prima di aggiungere l'oggetto interaction dovrò controllare se gin1 diverso da null e gin2 diverso da null e i due sono diversi tra di loro quindi gin1 equals gin2 allora se è così posso creare l'oggetto interaction e aggiungerlo al mio risultato ok quindi result punto add new interactions dove i parametri sono il gene1 che ho appena calcolato il gene2 che ho appena calcolato il terzo è la stringa che mi da result set type se non sbaglio si chiamava type fatemi controllare sì type e poi l'ultimo è un double che è result set punto get double ho dimenticato get string get string result set punto get double della colonna che si chiama copiamo la giusta expression underscore core expression core andiamo capo qua punto e virgola ok quindi qua abbiamo controllato che questo arco deve essere aggiunto perché il gene1 è tra i geni essenziali perché l'abbiamo trovato nell'idmap il gene2 è tra i geni essenziali perché l'abbiamo trovato nell'idmap e non sono lo stesso gene allora creo un nuovo oggetto interaction con tutti i campi che mi servono questo if ovviamente potevamo evitarlo non sarebbe servito se avessimo complicato un pochino di più la query quindi avessimo fatto qua una join con i geni per dire ok solamente scelgo solamente l'interaction i cui geni coinvolti siano già essential quindi lo potevo fare in sql questo filtro io così l'ho fatto in java ma come dicevo è uguale mentre l'operazione di passare da stringa a oggetto gene io ho scelto di farla nel dao se decideste di non farla nel dao e quindi in oggetto interaction lo stava stringa questa operazione la farete poi quando dovrete aggiungere gli archi al grafo perché avrete la stringa in mano dentro l'oggetto diciamo così interactions ma poi dovrete cercare il vertice del grafo corrispondente Mario mi chiede se dobbiamo raddoppiare il peso se hanno stesso cromosoma io questo lo farei nel model questo metodo del dao lui mi da la tabella di interazioni mi legge la tabella del database con quel vincolo lì che chiaramente i geni devono essere compresi nella mappa poi quando vado a creare l'arco vado a controllare il peso e quindi il codice che assegna il peso preferisco vedermelo nel model ok vediamo qua allora qui questo dovrebbe essere quasi finito dobbiamo restituire il risultato ritorno result e ovviamente chiudiamo la connessione close se volessimo farla qui più complicata dobbiamo fare un join per ogni sì dovrete fare un join tra tre tabelle servirebbe fare se vogliamo possiamo farla tanto è una cosa di un secondo dovremmo fare un select vediamo se possiamo fare un po' più grande select asterisco from non solamente interactions ma anche genes una volta g1 e genes due volte il secondo genes in cui dobbiamo andare a vincolare che interactions punto gene id 1 uguale g1 punto gene id and g1 punto essential uguale essential e poi faccio lo stesso controllo sul g2 and interaction punto gene id 2 vado a pescare il gene corrispondente della tabella g2 deve essere ovviamente un'istanza diversa dalla tabella perché altrimenti un gene non può essere contemporaneamente l'id1 e l'id2 e quindi cerco solamente interactions punto interactions non mi servono i campi di genes mi servono solamente i campi di interactions e dovrebbe bastare così quindi in questo caso ho un elenco di interactions che sono 1200 rispetto alle vabbè attenzione devo mettere un distinct perché sono troppe ok ne sono 231 sulle 900 totali ok quindi questa sarebbe la query che abbiamo chiamato più complicata che mi devo ancora aggiungere un pezzo se voglio che siano a parità di funzionalità che interactions punto gene id1 sia diverso da interactions punto gene id2 forse non ce n'erano vediamo subito da 231 ah no ce n'erano perché scende 216 quindi questa query qui mi avrebbe evitato di scrivere questa if o l'una o l'altra cosa preferite ok abbiamo il risultato possiamo andarcelo a consumare nel modello nel model siamo dentro crea grafo abbiamo appena creato i vertici qua e adesso invece ci pensiamo qua in mezzo a creare gli archi che arriveranno ovviamente dalla lista di interactions che chiediamo immediatamente al DAO get dao ah non l'ho salvato scusate devo salvarlo così mi vede la funzione che si chiamava get interactions punto get interactions ho dimenticato archi chiamiamola archi questa lista get interactions che riceve come parametro l'idmap dei geni essenziali giuseppe mi sta chiedendo il campo type è un dato ridondante perché i genes presentano già al loro interno il campo chromosome allora è un campo che non ci serve sicuramente qui noi abbiamo un campo type nell'interaction che è il tipo di interazione che non ci serve in realtà anche i geni a loro volta hanno un campo no non si chiama type è un campo che non ci serve ma non c'entra niente col numero di cromosoma che avevamo nella classe gene che sono due informazioni separate in questo caso stiamo leggendo questa colonna in realtà questa colonna non ci serve a nulla però a me è costantemente poco se fossero 27 campi e me ne servono 3 allora vabbè ne metto 3 ma visto che mi servono 3 campi e ce ne sono 4 io preferisco fare il metodo che lega tutti e 4 così se un domani dovessi estrarre fare delle query diverse io l'oggetto interaction ce l'ho già completo poi nel nostro caso nel nostro esercizio questo campo type l'abbiamo letto l'abbiamo memorizzato ma non ci serve quindi abbiamo fatto un epsilon di lavoro in più ma avviamo la classe interactions che è completa e pronta diciamo così per altri casi ma anche anche il metodo del DAO se cambiassimo un attimo questo criterio potremmo usarlo in senso generale anche in altri esercizi però come sempre come dicevo se fossero tanti campi in più allora magari non mi prendo la briga di leggerli se non mi servono però in questo caso mi costava poco avere già una classe che posso usare anche in altri casi mentre invece per quanto riguarda i cromosomi sì devo fare questa operazione di andare a leggere dentro il gene qual è il cromosome allora gli archi da aggiungersi avranno questi ma io l'arco lo devo aggiungere o col peso dato dalla tabella interaction oppure col doppio del suo peso e questo lo vado a vedere controllando se il numero di cromosoma dei due geni di partenza e arrivo del grafo è lo stesso oppure no quindi prima di aggiungere l'arco al grafo devo andare a controllare l'uguaglianza o meno dei cromosomi quindi eh no prima devo fare un ciclo for interactions a due punti arco due punti archi se arco punto get gene 1 gene ricordiamoci che è l'oggetto gene punto get chromosome che è il numero intero è uguale all'altro cromosoma quindi arco punto get gene 2 che è il punto d'arrivo dell'arco punto get chromosome allora se sono uguali allora dovrò aggiungere un arco col peso doppio va bene grafs punto add edge no no add edge uso la metodo di utilità add edge per riuscire a inserire un'istruzione sola sia l'arco che il suo peso altrimenti mi serviranno due istruzioni ma sono figro quindi this punto grafo il primo parametro è il grafo sempre il secondo parametro è il vertice di partenza non ricordiamoci add edge che cosa fa vieni su grafo vertice di partenza vertice di arrivo e il peso dell'arco sono i 4 parametri che mi servono quindi grafo di partenza è arco punto il vertice di partenza è arco punto get gene 1 il vertice di arrivo è arco punto get gene 2 e il peso sarà ovviamente arco punto get expression correlation per 2 altrimenti i cromosomi sono diversi e allora farò esattamente la stessa cosa senza il per 2 senza moltiplicare per 2 e grazie mi avete ricordato che in realtà devo fare il valore assoluto di questo peso quindi è mat punto abs me l'ho dimenticato mat punto abs di tutta questa cosa qua e anche qui la stessa cosa mat punto abs di questo quindi valore assoluto della correlazione oppure valore assoluto del doppio della correlazione vediamo se funziona quindi riavviamo il main abbiamo il solito crea grafo che ci dice che abbiamo 286 vertici e 213 archi andiamo a vedere se negli esempi questi numeri quadrano 286 e 213 si quadrano adesso non siamo sicuri che il valore numerico dei coefficienti dei pesi degli archi sia giusto infatti se avessi dimenticato il valore assoluto come vi avete fatto notare sarebbero venuti esattamente il numero giusto di archi ma il loro peso sbagliato ma me ne sarei accorto dopo allora con questo abbiamo finito il punto direi 2b e anche 2c anche perché non è che si potessero fare gli archi senza considerare il peso ok quindi un arco collega due geni solo per verificare che non abbiamo dimenticato nulla un arco collega due geni diversi solo se tale coppia appare nella tabella interaction signori gli archi tipo cappio l'abbiamo fatto per definire il peso si parte dalla correlazione e si considera il peso parte del valore assoluto se i due geni non appartengono allo stesso cromosoma oppure il doppio valore assoluto se i due geni appartengono allo stesso cromosoma ok quindi abbiamo chiuso i punti B e C del del tercizio 1 e come ormai sappiamo un piccolo commit ci aiuta ok qui dobbiamo aggiungere la classe interactions punti 1B e 1C ok andiamo avanti ma come ho fatto evitare Giorgia come ho fatto evitare di prendere sia la coppia geni 1 geni 2 che la coppia opposta geni 2 geni 1 buona domanda non l'ho evitato non ho fatto non ho fatto nulla di particolare per evitarlo quindi cosa capita in questo caso in questo caso cosa capita se nella mia query mi trovassi sia la coppia che la coppia inversa che la quindi dentro archi mi ritroverei due volte la stessa cosa con il con i due geni scambiati allora prima di tutto la correlazione sarà uguale nel caso in cui trovassi se andate a vedere la tabella chiaramente se gene 1 gene 2 avesse una correlazione e gene 2 e gene 1 avesse un valore di correlazione diversa sarebbe un problema perché concettualmente non avrebbe senso per quello che stiamo facendo se una tabella comparisse verifichiamo che hanno lo stesso peso ma dal punto di vista dell'uso del grafo cosa faccio io aggiungo un arco da gene 1 a gene 2 con un suo peso poi quando troverò l'arco al rovescio aggiungerò farò nuovamente un altro add edge ok il metodo add edge che è qua diciamo così il metodo grafs.add edge non è altro che un metodo di utilità che a sua volta chiama il metodo add edge e cosa dice leggiamo il testo crea un nuovo arco nel grafo che va dal verso di sorgente a quella di destinazione e ritorna all'arco creato vabbè alcuni grafi non permettono la molteplicità degli archi quindi stiamo cercando di aggiungere una seconda volta lo stesso arco in questi casi il grafo già contiene un arco e allora questo metodo non cambia il grafo e ritorna null quindi in questo caso hai fatto bene apporti il problema in questo caso sto sfruttando il fatto che add edge se cerco di aggiungere una seconda volta un arco che già esiste semplicemente non fa nulla non segna errori e se volessi andare a vedere ritornerebbe null ma se no semplicemente non aggiunge non modifica l'arco precedente e non segnala errore non dà eccezioni ok quindi questo succede sia sull'add vertex che sull'add edge se aggiungete qualche cosa che già c'è lui non lo fa semplicemente ignora l'operazione questo è il grafo essendo il grafo non orientato il grafo lo sa che se io ho inserito l'arco AB e cerco di inserire l'arco BA è lo stesso grafo questo è un lavoro che farà la classe grafo da sola se il grafo fosse invece un grafo orientato chiaramente AB e BA sarebbero diversi ma il problema non si potrebbe ok quindi in questo caso ho ignorato il problema perché so che ci pensa già il grafo a ignorare i doppioni eventualmente si dovesse presentare se volessi evitarlo allora basta il solito trucco di rendere asimmetrica questa query e quindi aggiungere qualcosa del tipo AND geni di 1 maggiore di geni di 2 ok quindi ad esempio nella query tra virgolette più complicata che avevamo fatto anziché dire che mi basta che i due geni siano diversi anziché diversi scrivo maggiore e così automaticamente escludo metà delle coppie nell'ipotesi in cui nel database ci fossero tutte le coppie possibili immaginabili però in questo caso devo dire che non ce l'avevo pensato ma per fortuna non dà problemi perché il grafo ignora l'operazione prima di mettere un maggiore qui e un minore bisognerebbe verificare che effettivamente nel database ci fossero tutte le coppie perché se ci sono alcune coppie ma non tutte allora è un problema perché che io metta maggiore ne escludo alcune metto minore ne escludo altre allora dovrei comunque prenderle tutte e poi cancellarle dopo non ci sono Mario mi dice non ci sono tutte le coppie solo tre sono doppie quindi siamo nel caso peggiore in cui non siamo sicuri non sono assenti lui e Mario ha fatto la verifica non sono assenti i doppioni ma non sono neanche completi non ci sono neanche tutti e quindi in realtà non ce la caviamo semplicemente solamente sparigliando la query quindi in quel caso se volessimo se fossimo preoccupati del problema e non ci ricordassimo che get edge in realtà non si preoccupa non crea problemi dovremmo prima di aggiungere l'arco fare un controllo in più fare un get edge nel grafo get edge per trovare se eventualmente esiste già un arco tra questi due tra i due geni tra cui lo stiamo per raggiungere in qualunque ordine perché essendo il grafo non orientato la get edge è già abbastanza furba da riuscire a capirlo ok andiamo avanti ci manca ancora un pezzettino per finire il punto 1 che ci manca essenzialmente il punto D E il punto D è banale ci dice permettere all'utente di selezionare dal menu a tendina uno dei geni presenti nel grafo questa tendina gene che finora non abbiamo ancora popolato e quindi la popoleremo abbiamo già dalla lista dei geni e poi questo bottone geni adecenti che stampa l'elenco dei geni adecenti a quello selezionato e il relativo peso in ordine decrescente di peso come sempre la roba più pallosa sarà fare il decrescente di peso ok allora popoliamo la tendina popolare la tendina andiamo nel nostro controller controlliamo che la tendina si chiama combo box geni e specifichiamo che contiene oggetti tipo jeans ecco una cosa che avrei voluto ho pensato scusate ho pensato prima quando scrivevo quando scrivevo il DAO che ho detto devo controllare poi non l'ho fatto il metodo equals qui mi sono fidato dell'implementazione di equals della classe gene ma la classe gene non l'ho scritta io era già nel progetto quindi andiamo a verificare solo che faccia la cosa giusta che stia facendo il confronto giusto e già che ci sono controllo il metodo toString così verifico cosa andrà a finire nella tendina allora la classe jeans ha un metodo equals definito si questo metodo equals lavora bla 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 confrontando solamente il gene vedete che alla fine delega all'uguaglianza del gene dopo tutti i controlli di rito che uno non sia null eppure l'altro eccetera eccetera quindi l'uguaglianza questo c'era già di fatto nella classe jeans però vale la pena controllare perché magari qualcuno ha definito un criterio di uguaglianza che non è quello che mi serve in questo caso l'uguaglianza dei geni è l'uguaglianza del loro id che è perfetto e il metodo toString e il toString ritorna solamente il gene quindi va già bene nella stringa col gene senza tutte le altre informazioni quindi mi va bene perché questo è proprio quello che voglio vedere visualizzato nella tendina quindi va bene che dentro la combo la riempio di geni e quando dopo la creazione del grafo e quindi quando avendo creato il grafo posso conoscere l'elenco di geni posso anche popolare questa tendina devo però chiedere al modello di darmi i geni la lista di geni essenziali quindi bisogna aggiungere almeno un getter per essential genes vabbè qui c'è un pigro perché ho usato eclipse per farmi creare semplicemente questo metodo in cui il modello restituisce la lista dei geni essenziali che controller userà ovviamente per popolare la tendina quindi in questo caso abbiamo che combo dei geni combo geni punto get items ok punto add all di che cosa di model punto get essential genes e mi ricordo attenzione di ripulire la tendina nel caso il metodo venisse chiamato più di una volta c combo geni qui questo mi scuglio di italiano inglese clear ok prima di aggiungere il voce della tendina mi sincero che non ne contenga già perché altrimenti rischiamo di aggiungere molte quindi facciamo un run non dovrebbe essere cambiato molto crea grafo e a questo punto mi dovrebbe popolare la tendina con i geni in ordine alfabetico ok questo sarebbe punto D andiamo avanti naturalmente semplice possiamo andare avanti sul punto E alla pressione del bottone geni adiacenti stampare l'elenco dei geni adiacenti quello selezionato e il relativo peso in ordine del crescente di peso allora in questo caso mi servirà una piccola classettina che contenga l'oggetto gene e il suo peso per poter stampare essenzialmente questa questo è l'elenco che vediamo sotto nell'esempio nome gene e peso quindi mi serve una classe che contenga questi due elementi e me la devo creare e vabbè sarà una classe che crea nel modello chiamalo adiacente questa classe adiacente conterrà private G un gene gene e un double che è il peso il peso dell'arco basta quindi le do il costruttore e get get resector e poi ricordiamoci che questo elenco dovrà essere stampato in ordine decrescente di peso e quindi già che ci sono posso rendere questo oggetto comparable comperable comperable di adiacente definisco già un comparatore in modo che poi sia facile diciamo così ordinare liste di questi oggetti da automaticamente per peso decrescente quindi mi faccio aggiungere il metodo compare to in fondo dove il confronto sarà tra this punto peso punto compare to other punto peso col meno davanti metto le parentesi di tonne così si vede meglio perché mi serve l'ordinamento inverso l'ordinamento contrario quindi potrei fare compare to tra other e this però per mantenere così più leggibile essenzialmente il pattern uguale this compare to other e però ci metto meno davanti perché voglio diciamo così l'ordinamento inverso anziché l'ordinamento decrescente anziché quello crescente ok fatto questo ecco voglio solo citarvi un errore da evitare ok che è un po' una trappola alcuni l'abbiamo già visto via telegram con alcuni verrebbe da fare così return dis punto peso meno other punto peso cioè in fondo devo ritornare un valore positivo se il primo è maggiore del secondo un valore negativo se il secondo è maggiore del primo un valore nullo se sono uguali e allora sono due numeri peso dell'uno e peso dell'altro sono due numeri e posso fare la sottrazione ok allora questo funzionerebbe perfettamente se fossero numeri interi ma questi sono dei double e il risultato di compare to invece è un int allora ciò che succede qua quando faccio questo è che in realtà sto facendo la sottrazione e poi questa sottrazione la converto in intero viene troncata convertita automaticamente in intero allora questo è un problema perché se noi abbiamo che il peso 1 fosse 0.7 e il peso 2 fosse 0.5 la differenza di 0.7 meno 0.5 fa ovviamente 0.2 però questo 0.2 viene troncato a 0 anzi 0 intero e quindi 0.7 0.5 anziché dire che 0.7 è maggiore 0.5 il compare to direbbe che sono uguali ok il valore positivo verrebbe solamente se se la differenza tra questi due double fosse una differenza maggiore dell'unità quindi se uno fosse 70 l'altro fosse 73 va bene però solo se questa differenza fosse maggiore dell'unità se la differenza tra questi double è minore dell'unità allora il troncamento intero confonde cioè vanifica il confronto e mi dice che tutti gli elementi che tra l'altro in cui il dis è maggiore dell'ader vengono arrotondati a 0 tutti quelli in cui invece il dis è minore dell'ader vengono arrotondati a meno 1 quindi non sta neppure dicendo guarda le differenze minore dell'unità non le considero se fosse leggermente positiva la considero uguale se fosse leggermente negativa le considero minore e quindi poi l'algoritmo di ordinamento che userà questa informazione che non è affidabile sicuramente mi darà fuori dei risultati sbagliati ok questo è il motivo per cui non ho usato questa formula con i double non funziona ok e ho semplicemente delegato il compare to della classe double e questo è il motivo per cui distinto questo attributo peso l'ho chiamato double con la D maiuscola come oggetto e non double minuscolo perché così potevo attingere al metodo compare to nella chat Francesco mi sta dicendo ma potrei fare if peso 1 peso cioè adder.peso maggiore di dis.peso return meno 1 certo che puoi farlo però hai tre casi se questo else ritorna più 1 else ritorna 0 quindi però devi esplicitamente controllare fare almeno due dei tre controlli poi è il caso else che ti prende l'altro quindi sicuramente puoi farlo a mano però come sempre se noi riusciamo a delegare qualcuno che già lo fa è meglio ricordiamocelo solo questo è diciamo così è un errore abbastanza ingannevole perché tu lo leggi ma sì è ovvio è cosa giusta però questo arrotondamento in intero mi frega essenzialmente e ciò che ottieni è che poi il programma non dà nessun errore ma l'ordinamento viene fuori sbagliato e dici ma perché non ho sbagliato niente invece quindi è un dettaglio che valeva la pena secondo me ricordare ok oppure vi fate gli if se non vi fidate della classe double ok torniamo al nostro allora abbiamo fatto questa classe adiacente che ci servirà in un metodo del modello che dobbiamo implementare per poter diciamo così rispondere a questo bottoncino che si chiamava geni adiacenti quindi possiamo a questo punto fare questo nostro metodo public lista di adiacente e chiamiamolo get geni adiacenti a un determinato gene g public ok allora questo è semplicissimo nel senso che io basta basta che prenda allora scusate rispondo solo a Cristiano prima di andare avanti che mi dice ma dov'è che ha raddoppiato il peso dell'arco il peso dell'arco l'ho raddoppiato qua quando ho creato l'arco quindi quelli che chiamo adiacenti adesso non sono la tabella delle adiacenze nel database sono già gli pesi già diciamo gli archi del grafo che sono stati raddoppiati quando necessario nel momento in cui ho inserito l'arco ok torniamo qua i geni adiacenti allora parto da un gene devo trovare tutti quelli adiacenti questo me lo dice al volo il grafo basta che io vada a chiedere al grafo dunque graphs get oppure neighbor neighbor list of questo è un modo semplice mi da già dato un vertice la lista di vertici che sono vicini al vertice specificato poiché il grafo è un grafo non orientato non ho gli outgoing o i successor list o i predecessor list ma ho semplicemente i neighbor list che sono tutti vicini indipendentemente dell'ordine dell'arco perché l'arco non ha un ordine quindi dis.grafo e il vertice di partenza g cosa fa il neighbor list of mi restituisce una lista di geni una lista di vertici ok la lista facciamo i vari passaggi i vicini sono questi adesso io per ciascuno dei vicini devo costruire un oggetto di tipo adiacente in cui ci metto il vicino e il suo peso perché il neighbor list mi dà solamente i vicini non mi dà i pesi e va bene allora creo una nuova lista for lista di adiacenti che è il mio risultato che voglio calcolare new array list così e per ogni vicino james v due punti vicini per ogni vicino v i cini aggiungerò un nuovo perché questo non lo conosce non conosce ancora il list per ogni vicino creerò aggiungerò un nuovo elemento alla lista adiacente quindi result.add un new adiacente che come primo parametro ha il gene vicino e come secondo parametro ha il peso e il peso ce l'avrò da graphs .get graphs get edge weight no edge weight edge weight non ce l'ho qua vabbè devo prendere grafo .get ah grazie sapevo che ricordavo che ci fosse ma this .grafo .get edge weight eh sì però devo chiaramente prendere l'oggetto edge sempre da grafo get edge dal vertice di partenza che è g al vertice d'arrivo che è v ok allora get edge mi dà l'arco che collega G che è il gene selezionato dall'utente a V che è uno dei vicini questo è l'arco poi estraggo il peso dell'arco e lo metto dentro adiacente ok probabilmente se avessi trovato non i vertici vicini ma gli archi vicini sarebbe stato più semplice ma è uguale a questo punto ho dentro result la lista di questi oggetti adiacente e devo semplicemente ordinarla collections .sort di result e restituirla al controller ok allora a questo punto questo get good collections .sort perché non ti piace perché non ho salvato adiacente secondo me vedi che adesso gli piace dunque Alessandro ci dice io l'avevo fatto in un modo diverso in chat e ci dice dunque outgoing edges liste di decenza vergis si è uguale lui aveva adesso lo possiamo scrivere anche qua solo per poterlo leggere meglio magari qua in fondo questo è il codice che ci propone Alessandro concettualmente la stessa cosa la differenza è che anziché prendere l'elenco dei vertici adiacenti lui prende l'elenco degli archi collegati e poi ovviamente è più facile per lui prendere il peso dell'arco perché ha già l'oggetto arco che ha chiamato D ci vale un pochino di più per prendere invece il vertice di destinazione e quindi deve chiamare get opposite vertex dall'altra parte due note su questo codice già che ci siamo io anziché get outgoing edges avrei semplicemente scritto edges of in questo caso è uguale però gli outgoing e gli incoming sono pensati più per i grafi orientati questo è un grafo non orientato quindi ha più senso scrivere edges of tutti poi in realtà mi restituisce esattamente gli stessi perché il grafo è furbo e lo capisce però è più chiaro dire beh so che il grafo è non orientato e quindi mi servono tutti gli archi la seconda cosa è che vabbè tu hai fatto la scelta di mettere dentro l'oggetto adiacenza la stringa gene id io invece ho fatto la scelta di mettere direttamente l'oggetto gene perché ma perché non si sa mai se ho l'oggetto ho tutte le informazioni se invece ho solo una stringa magari mi mancano delle informazioni se dovessi usarle quindi io preferisco sempre quando posso portarmi a spesso oggetti e non stringa stringa sono proprio l'ultima razza o prima di stampare allora metto una stringa Mario mi chiede se in un grafo non orientato fare get edge da g1 g2 a get edge g2 g1 è la stessa cosa sì nel senso che ti restituisce lo stesso oggetto di tipo edge attenzione che quell'oggetto di tipo edge non è detto che sia orientato nell'ordine che vuoi tu quindi se fai get edge g1 g2 può venirti fuori un oggetto edge il cui source sia g2 e il cui target sia g1 perché ti dà l'arco così come è orientato così come è stato memorizzato dentro il grafo però in un grafo non orientato la ricerca la fa comunque automaticamente lui nei due versi poi ti ritorna un oggetto arco che tu non sai come è orientato e allora il source e il target coincideranno con il primo e il secondo oppure il secondo il primo argomento o il secondo dei casi ma te lo trovo Simone mi dice con il ciclo su edge solve ho aggiunto le adiacenze con add new adiacenza grafo get edge source get edge target no questo non è corretto quello che mi dice Simone adesso vi scrivo qua la sua linea di codice proprio per quello che stavamo commentando insieme a Mario perché source e target sono sicuramente il gene 1 e il gene 2 ok però non sappiamo quale dei due sia quindi può darsi che il source sia quello che io ho chiamato G e il target sia quello che io ho chiamato V cioè il vicino oppure il source sia V sia il vicino e il target sia G quindi così sicuramente li memorizzo entrambi però quando dovrai stamparli non so cosa fai ma non devi prendere sempre i vari target perché in alcuni casi l'arco può essere memorizzato al contrario ok quindi in questi casi c'è proprio questo metodo qua come get opposite vertex che ci fa già questo lavoro dicendo che io questo vertice ce l'ho o il vertice o l'arco dimmi qual è l'altro vertice e ci pensa già lui a considerare l'arco nelle due direzioni possibili quindi questo dipende appunto se in fase di stampa facevi questo controllo oppure no ok lo proviamo perché forse non l'abbiamo ancora provato vero? allora crea grafo ne scelgo uno ah da certo perché nel controllo non ho ancora scritto nulla ho solo chiacchierato giù deni adiacenti dovrò ottenere genes g uguale combo geni punto get value controllare se g o null in questo caso stampiamo un errore errore scegliere un gene è buon return altrimenti andiamo avanti e prendiamo la lista degli adiacenti che sono i vicini adiacenti va chiamiamolo in italiano se riusciamo allora facciamo un po' di import che mancano java punto utile model punto adiacente uguale model punto get geni adiacenti del nostro g e a questo punto possiamo stamparlo allora attenzione è una lista non è detto che questa lista esista cioè non è detto che contenga degli elementi quindi andiamo a controllare if adiacenti punto size uguale 0 e dirò che non c'è nessuno txtresult punto append text nessuno mettiamoci magari un messaggino sopra txtresult punto com'è che diceva l'esempio geni adiacenti a due punti no? append text geni adiacenti a due punti e il nostro g a capo allora se questa lista è vuota dico nessuno altrimenti ovviamente dovrò fare un piccolo ciclo per stampare ciascuno di loro for adiacente a due punti adiacenti dovrò txtresult punto append text stamperò il gene quindi a appunto get gen poi uno spazio e il valore del peso get peso ok riproviamoci adesso crea il grafo scelgo il primo geni adiacenti al primo nessuno scelgo il secondo che era anche uno di quelli dell'esempio geni adiacenti è 234.074 c'è 234.735 con peso 0,63 che corrisponde scelgo un altro di quelli dell'esempio magari quello in fondo che ha tre adiacenti è 234.194 234.194 eccolo qua che ha ah qui non sono andato capo comunque 234.194 c'è 229 con 167 poi c'è il 123 con 0,64 e il 129 con 0,33 direi che quadra a parte gli a capo che ho dimenticato di inserire ma li mettiamo subito perché facciamo in fretta farlo get peso più a capo ok corrin ci dice guarda che devi controllare anche che il grafo non sia nullo effettivamente sì nel senso che se io provassi con un programma appena lanciato però in realtà non riesco io ho fatto il controllo il problema è se io cerco di chiedere i geni adiacenti prima di aver fatto crea grafo il grafo è ancora nullo e quindi non funziona in realtà se il grafo è nullo la tendina gene non contiene nulla e quindi mi blocca prima con l'errore scegliere un gene quindi per fortuna in questo caso non mi dà eccezione però per sicurezza si potrebbe fare un controllo in più che se il grafo è nullo chiaramente in teoria questo bottone qua gene adiacenti lo potremmo disabilitare e abilitare solamente dopo il crea grafo questa sarebbe la soluzione più pulita in assoluto ok e quindi fare in modo che il bottone si possa premere solo se il grafo è stato creato però perlomeno in questo caso mi ero onestamente dimenticato di controllarlo ma per fortuna in questo caso non mi dava eccezione altrimenti avrei dovuto aggiungere un metodo al model che mi dica il grafo è stato creato sì oppure no perché ovviamente il controller non sa non conosce l'oggetto grafo e quindi devo chiedere al model non di darmi il grafo perché il grafo è giusto che non esca dal modello ma di darmi almeno come si dice l'informazione booleana se ok grafo creato ok sì oppure no va bene direi che questo conclude il punto 1 dell'esercizio e quindi merita un commit di festeggiamento quindi abbiamo fatto anche i sottopunti D ed E del punto 1 e direi che siamo in perfetto orario per fare una pausa e quindi occuparci poi del punto 2 che è una simulazione in questo caso nella seconda ora questo esercizio questo esercizio qua come avete visto forse era più non dico più facile perché quello della volta scorsa non è che fosse difficile forse era un pochino più breve rispetto a quello della settimana scorsa perché c'erano meno query da fare in pratica c'erano meno bottoni meno azioni dell'utente da gestire quindi alla fine c'erano meno passaggi poi se vi ricordate la settimana scorsa la ricorsione è stata molto veloce da implementare perché era ovviamente poche righe magari non da pensare questo lo sappiamo da implementare mentre la simulazione che ci aspetta nella prossima ora invece richiede un pochino più di codice non di difficoltà ma di codice sicuramente però in questo modo insomma vedete che il punto 1 consiste nel creare il grafo sapersi gestire il database la creazione del grafo creazione degli archi un minimo di navigazione e interrogazione su quelli che sono gli archi i pesi i vicini eccetera eccetera allora vi ho fatto push di questa parte quindi ci possiamo premiare con un quarto d'ora di intervallo se non ci sono domande che vengono fuori al momento e riprendiamo col punto 2 d'esercizio alle ore 10 e 15 ok non ci sono domande quindi vi saluto e ci rivediamo tra un quarto d'ora e ci rivediamo e ci rivediamo